nelle culture far battere le mani, io sono arrivato qui all'Ariston con l'obiettivo preciso di far recepire un messaggio e credo che nel mio piccolo ieri sera ho contribuito a far pensare che la nostra è la terra del sole, non la terra dei fuochi Buongiorno Rocco, sono qui prima fila, Max Guadalaxara, Radio Spazio Blu, Gaeta e Radio Prins noi ti stiamo suonando a palla, ma da prima già, quindi ci è piaciuto tantissimo il tuo pezzo ma non perché siamo vicino a Napoli, proprio perché è bello il pezzo, prende subito a me è piaciuto molto il connubio tra testo e musica, la musica, chi l'ha fatta? È stato un lavoro di gruppo? Sì, la musica è nata da una mia idea di deciso, di ritornello, quindi da una mia composizione iniziale poi ho avuto un team di produttori alla quale ricordo Takagi, il produttore dei Gemelli Diversi e Ketra, il produttore di Bundabash, cioè due gruppi importantissimi e quindi c'è stato questo connubio di produttori con anche la mia mano, il mio ritornello, il mio inciso è stato creato uno sfondo appunto per le parole, devo ringraziare questi due produttori Ketra e Takagi Beats per la produzione, insomma poi anche ieri, diciamo, la cosa bella per me è stata sentirla con l'orchestra che il brano originale è una cosa, ma con l'orchestra è veramente di oro e buono Tanta roba Ciao Rocco, sono qua Buongiorno